Domenica 2 giugno, dalle ore 9 per tutta la giornata, si disputerà la sesta edizione della Becquery Mini Cup, torneo rivolto alle categorie mini-basket, acquilotti, scoiattoli ed esordienti dai 6 ai 12 anni. Una manifestazione che inizierà di primo mattino con l'accoglienza e che si giocherà, oltre che sul parquet del Palabecquery e del campo all'aperto del polisportivo, su altri sei campi allestiti al coperto. Saranno 38 in tutto le squadre partecipanti, che arriveranno anche da fuori regione, per 500 bambini che disputeranno più di 80 partite con oltre mille persone coinvolte al centro di Largo Anguissola, che si trasformerà così in una sorta di fiera incentrata sulla palacanestro, tra colori, partite e tanto divertimento, oltre all'area ristoro e bar. Oltre alla Becquery parteciperanno le società Piacenza Basket Club, Jolly Reggio Emilia, Basket Salso, Fiorenzola Biz, Kangaroos Sarmato, Genova, Buccinasco, Pizzighettone, Castellana, Scuola Basket Reggio Emilia, San Secondo, Segrate, Luzzara, Basket Club Solesino, Posa al Basket, Garbagnate e Podenzano. A differenza dell'anno scorso, proprio gente che si autoinvitava, ma nel senso perché aveva sentito del nostro torneo, vogliamo venire, ce l'hanno parlato bene, abbiamo ovviamente non chiuso la porta a nessuno, anzi, se riuscissimo a fare addirittura 45-50 squadre, cosa non facile, ma è un obiettivo pazzesco avere più bambini possibili per una giornata del genere, perché è un divertimento per loro. Grazie a tutti.